Buongiorno a tutti, oggi parliamo di sottovuoto. Perché pensiamo del sottovuoto? La prima cosa che ci viene in mente sicuramente è l'allungamento dei tempi di conservazione, ma altri argomenti importanti sono sicuramente lo stoccaggio e il modo di HCCP. Per quanto riguarda lo stoccaggio, mettere sottovuoto ci permette di stoccare all'interno dello stesso frigorifero varie tipologie di prodotti che possono essere abbinati a formaggi e carni, per esempio, due prodotti che tendenzialmente non si potrebbero inserire. Per quanto riguarda l'HCCP, sicuramente il consiglio è quello di avere tutti i nostri prodotti ben confezionati e etichettati nel frigorifero, per cui con delle date ben precise che possono poi ritornare utili per i registri dell'HCCP. Grazie a tutti.